Si è tenuta questa mattina in via generale Clark a Salerno davanti alla sede della Regione Campania per le autorizzazioni ambientali e rifiuti la manifestazione pacifica organizzata dal Comitato Spontaneo Amici dell'Ambiente. Un'iniziativa per manifestare il disappunto dei cittadini di Battipaglia, stanchi di essere la pattumiera dell'intera provincia di Salerno nonché dell'intera Regione Campania. Sì l'obiettivo è questo perché già abbiamo oltre 40 aziende che trattano rifiuti, abbiamo dei siti di stoccaggio provvisori mai rimossi, abbiamo due discariche dove il pendito schiavone ha detto che il sistema all'epoca era quello e quindi si può trovare di tutto dentro. Già siamo la pattumiera della Regione Campania perché tra il pubblico e il privato arrivano circa 2 milioni e 800 mila tonnellate di rifiuti all'anno, basta considerare le tonnellate per i trasporti, i viaggi, già solo di inquinamento atmosferico per i camion che arrivano a Battipaglia c'è un gran disagio. La piana del Sele, Eboli, è tutto il comprensorio, è tutto lato, noi abbiamo già un impianto di compostaggio, abbiamo un impianto pubblico di tritovagliatura, cioè lo stir, poi tutti i privati, penso che bastino, la comunità europea ci dice impianti di prossimità, i rifiuti non devono viaggiare perché sul trasporto è il primo spreco di denaro, quindi bisogna evitare questo ennesimo impianto di rifiuti a Battipaglia. Grazie.